Musica Nuova edizione della TG2000, buonasera a tutti e buona festa dell'Immacolata. Giornata mariana per Papa Francesco che nel pomeriggio, secondo tradizione, si è recato ai piedi della Vergine in Piazza di Spagna, dove ha pronunciato una preghiera da lui stesso composta ad accoglierlo oltre al sindaco di Roma, Virginia Raggi, migliaia di romani e tanti disabili. Prima di fare rientro in Vaticano, una visita alla Salus Popoli Romani a Santa Maria Maggiore. Ma per un resoconto della giornata, ci colleghiamo subito in diretta con Francesco Durante che si trova in Vaticano a Piazza San Pietro. Buonasera Francesco. Buonasera Fabio, a te e ai nostri telespettatori. Come hai detto tu, una giornata prettamente mariana per Papa Francesco e non poteva essere altrimenti nella solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Questo pomeriggio il tradizionale omaggio floreale alla Vergine in Piazza di Spagna, accompagnato dalla preghiera, una preghiera appositamente composta da Francesco, una preghiera in particolare per i bambini, per le famiglie, per i lavoratori. Poi, prima del rientro in Vaticano, la sosta è in un luogo tanto caro al Pontefice, ovvero la Basilica di Santa Maria Maggiore. Mentre questa mattina l'Angelus Francesco ha messo in guardia da quei mezzi sì, che a volte noi diciamo al Signore, chiudendo così, la porta al bene. Quei mezzi sì contrapposti al sì più importante della storia, quello di Maria. Il sì disponibile che ribalta l'egoismo del peccato, quel peccato che ci invecchia dentro e che ci fa invecchiare presto. Ma per la cronaca dell'intera giornata di Papa Francesco ci racconta tutto Paolo Fucili. Sentiamo. La Focus di Francesco arriva a Piazza di Spagna sul far del tramonto, attesa da sindaco e cardinale vicario di Roma. Non vengo solo, il Papa prega con parole da lui stesso composte per oggi, solennità dell'Immacolata Concezione. Porto con me i bambini soli, le famiglie affaticate e i senza lavoro. È l'appuntamento che oggi si rinnova dal 58. Preghiera e omaggio floreale del Papa all'Immacolata che svetta sui palazzi del centro di Roma, sulla frenesia dello shopping prenatalizio cala il silenzio. E ti affido soprattutto a chi per necessità si sforza di svolgere un lavoro indegno e chi il lavoro l'ha perso o non riesce a trovarlo. All'Immacolata Francesco chiede per tutti i romani la capacità di guardare le persone senza interessi egoistici, di amare senza secondi fini, cercando solo il bene dell'altro, con semplicità e sincerità, senza maschere e trucchi. Poi fa tappa anche a Santa Maria Maggiore prima del rientro in Vaticano. La preghiera dell'Angelus recitata qui alle 12 proviene proprio dal Vangelo di oggi. Al primo no dell'umanità a Dio nella Genesi, odierna prima lettura, si contrappone il sì di Maria all'annuncio dell'Angelo che sarà presto madre. Un sì pieno, Francesco sottolinea, totale, per tutta la vita, senza condizioni, noi invece. Siamo esperti nei mezzi sì, siamo bravi a far finta di non capire bene ciò che Dio vorrebbe e la coscienza ci suggerisce. Invece ogni sì pieno a Dio, il Papa conclude, è origine di una storia nuova. Non i nostri mediocri, scusa, non posso, domani. Non il peccato che ci fa vecchi dentro. Avete pensato questo? Che il peccato ci invecchia da dentro? Ci invecchia presto. Ed ora, ora con Nicola Ferrante vi spieghiamo qual è il significato della ricorrenza liturgica di oggi, l'immacolata concezione di Maria. Vi spieghiamo la storia del dogma, perché l'omaggio a Piazza di Spagna e poi un po' di teologia fino a portarvi a Lourdes. Ma non vi anticipo oltre, ci sono tante interessanti curiosità che a molti farà piacere conoscere. Seguiamo insieme il servizio di Nicola Ferrante, mentre io vi saluto da Piazza San Pietro. Festa dall'alba ogni 8 dicembre in Piazza di Spagna, Roma, lì dove sorge la colonna che celebra l'immacolata. Ogni anno i primi ad arrivare i vigili del fuoco, ma perché l'oro? Perché in questo luogo e cosa ricorda quella colonna, alta 11 metri 80, sorregge la statua a bronzea di Maria, eretta l'8 dicembre 1857, grazie al lavoro proprio di 200 vigili del fuoco. Proviene dagli scavi romani di un'antica basilica. Sorge in Piazza di Spagna di fronte all'ambasciata, in onore del paese che finanziò i lavori e si spese per riconoscere il cosiddetto dogma dell'immacolata. 1500 anni, tanti ce ne vollero per definirlo, il primo a parlarne fu Sant'Agostino che riconosceva in Maria, senza saperlo ancora ben definire, uno speciale privilegio rispetto al peccato originale. Ma è con la teologia scolastica medievale che la discussione si accende. Il nodo riguarda il concepimento di Maria, attenzione, non il frutto virginale del suo seno, cioè Gesù, come molti ancora oggi confondono, ma la concezione di lei stessa, l'attimo cioè in cui fu generata dai genitori Anna e Gioacchino. Sin da quel momento, 40 settimane prima cioè della nascita di Maria, lei era già pensata dal cielo, senza ombra di peccato originale. I teologi si divisero per secoli su questo, fino a una vera e propria disputa tra francescani e dominicani, i primi più propensi a riconoscere lo speciale privilegio mariano, gli altri pronti a invocare perfino l'eresia. Ci vorrà Pio Nono a dirimere la questione in forza di quel sentire certo, ma anche semplice, che anima da sempre il cuore dei fedeli sulla purezza di Maria. Quel senso sfide in sfocia l'8 dicembre del 1854 nella Costituzione Apostolica in E fablis Deus, che definisce così il dogma. Quattro anni più tardi, nella festa dell'Annunciazione del 1858, a Lourdes Maria dice a Santa Bernadette di chiamarsi così. Mi ha detto, io sono l'Immacolata Concezione. Ed ora ci occupiamo della crisi di governo, perché il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avviato pochi minuti fa le consultazioni per scegliere la personalità a cui affidare l'incarico per la formazione del nuovo esecutivo. Andiamo subito in diretta dal Quirinale con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, gli ultimi aggiornamenti. Buonasera, dopo aver presentato le dimissioni accettate con riserva dal capo dello Stato Mattarella, sono iniziate le consultazioni. Poco fa abbiamo visto la macchina del Presidente del Senato che ha lasciato il Quirinale dopo l'incontro con il capo dello Stato Mattarella. In questo momento invece è in corso l'incontro tra Mattarella e il Presidente della Camera, Boldrini. Anche lei subito dopo non dovrebbe rilasciare dichiarazioni come ha fatto già il Presidente Grasso, come è da prassi. Ultimo incontro della serata invece è quello tra il Presidente Mattarella e il Presidente Merito Napolitano. Vediamo se il Presidente Merito lascerà delle dichiarazioni, quantomeno ci potrebbe far capire come potrebbe risolversi questa crisi. Domani ci saranno tutti i gruppi più piccoli. Giornata a cui invece è quella di sabato dove ci saranno i gruppi più grandi, i partiti più grandi, il Partito Democratico, il partito del Presidente del Consiglio dimissionario Matteo Renzi. A quel punto cercheremo e si capirà forse qualcosa in più su come questa crisi potrebbe essere risolta. Allora andiamo a vedere con questo servizio quali gli scenari possibili e poi la linea può tornare allo studio. Consultazioni senza fretta e se il quadro dovesse restare confuso pronto anche un altro giro di incontri dal Quirinale arrivano segnali di procedere con calma senza strappi per trovare una soluzione alla crisi. Al momento sono tre le ipotesi in campo, un governo di larga intese, uno istituzionale oppure un reincarico a Renzi. Quest'ultima ipotesi sarebbe in queste ore la più percorribile, la più gradita al Colle. Con Renzi alla guida di un governo politico che faccia la legge elettorale per andare al voto a primavera se non a fine legislatura nel febbraio 2018. Scettico alla soluzione del reincarico sarebbe proprio Renzi che vorrebbe sfilarsi perché sente crescere la fronda interna al suo partito e teme di ritrovarsi sulla graticola di un governo attaccato dall'interno e dall'esterno. Due le vie d'uscita indicate invece dal premier dimissionario già nella direzione di ieri, elezioni subito dopo la sentenza della consulta sull'Italicum attesa il 24 gennaio o un governo di responsabilità nazionale con una maggioranza larga. Ma dagli altri partiti arriva un coro di no al governo di larga intese con richieste invece di voto subito almeno a parole. A parte Salvini che le vuole subito o forse anche il Movimento 5 Stelle il ritorno immediato alle urne spaventa in non poco. Intanto le famiglie italiane appaiono sempre più in affanno. A pesare in particolar modo sui bilanci sono soprattutto le rate del mutuo e dell'affitto di casa. Mai state così tante secondo gli ultimi dati Istat e per gli arretrati è il record. Letizia Davoli. Il 5,4% delle famiglie in Italia non riesce a pagare l'affitto o il mutuo. A lanciare l'allarme l'Istat secondo cui nel 2015 la situazione economica delle famiglie italiane si è avvicinata sempre più a rischio povertà. La maggiore difficoltà riguarda proprio le spese obbligatorie, quindi mutui e affitti. Un dato record dal 2004, quindi dal meno 12 anni, che mette in chiaro come quasi il 60% dei nuclei familiari giudichi pesante il carico delle spese da versare alla banca o al proprietario della casa in cui si vive. D'altra parte l'esborso per stare sotto un tetto rappresenta uno dei capitoli principali delle uscite per le famiglie italiane che hanno acceso un mutuo con un costo medio di 586 euro mensili o che sono in affitto con un costo medio di 431 euro. A fare maggiore fatica il sud, i maggiori debitori, gli under 35, i pensionati quindi sono quasi in regola rispetto ai giovani, soprattutto se disoccupati. Male anche il risparmio. Secondo l'Istat sono ben poche le famiglie che riescono a mettere da parte qualcosa, appena una su tre. Anche in questo caso la percentuale più bassa degli ultimi 12 anni. A Milano si sta svolgendo in questi giorni la più grande fiera dell'artigianato. Qui trovano spazio anche le aziende delle zone colpite dal terremoto. Luciano Piscaglia ha raccolto le speranze e la voglia di ripartire di questi artigiani. È la più grande mostra mercato mondiale dell'artigianato, ospita più di 3.000 espositori di più di 100 paesi. Quest'anno però la grande Kermess ha voluto dare uno spazio privilegiato ad una zona dell'Italia al momento in grande sofferenza. Nei padiglioni italiani alcuni stand sono stati contrassegnati da un marchio, quello che indica un'azienda che proviene dalle zone del recente terremoto, Umbria, Marche e Lazio. Sono una quarantina e sono state ospitate gratuitamente da artigiano in fiera. Impegnate in una difficile rinascita, alcune sono presenti con uno stand, altre solo con i loro prodotti. Innanzitutto per la vitalità del nostro caseificio, perché facendo così promuoviamo il prodotto, la gente ci conosce e promuosce il prodotto. Seconda cosa perché praticamente aiutiamo un po' tutto l'aria, comprando perché noi compriamo latte dai pastori all'intorno, quindi sosteniamo un'economia locale. È più importante perché abbiamo ancora più bisogno di incremento, perché da noi adesso ci sarà sicuramente più crisi, meno vendite sicuramente nelle nostre zone. La gente fa meno di spendere, anche su un paio di scarpe. Cercavano un mercato per i loro prodotti, per provare a ricominciare ancora una volta. Hanno trovato l'abbraccio e la solidarietà di tanti artigiani come loro e soprattutto di centinaia di migliaia di visitatori. Ci sono allevamenti che non esistono più, ci sono stalle anche in cemento armato che non esistono più. Immaginate che cosa può avere dentro un allevatore del genere come forza d'anno. Però il popolo di Amatrice è forte e non si arrende. Abitiamo entro un container, quindi tra che le conseguenze mangiamo all'esercito. Quindi farà Natale penso un po', però vabbè, piano per anno, il prossimo anno faremo un Natale più felice. Ora invece la cronaca, ci spostiamo in Calabria nella piana di Gioia Tauro, fiamme nella tendopoli che accoglie in condizioni molto precarie oltre mille migranti utilizzati come braccianti. Da tempo si pensa ad una soluzione, ma senza risultati. Ci voleva poco perché l'incendio sviluppatosi nell'area industriale di San Ferdinando, nei pressi del porto di Gioia Tauro, in Calabria, si trasformasse in un evento ben più tragico per un migliaio di immigrati che vivono qui accampati. Una decina le baracche bruciate, tra cui quella di Bita Chiesa, dove ogni domenica veniva celebrata la messa, e due persone rimaste leggermente ferite. Questo è il bilancio del rogo di vampato nella notte tra martedì e mercoledì e prontamente domato dalle forze dell'ordine, come racconta un testimone. Sarebbe stata una fiamma accesa per difendersi dal gelo ad attaccare una delle baracche, per poi espandersi a quelle vicine, occupate dai lavoratori stagionali impegnati nella raccolta delle arance. Io sono venuto qui per campagna, se campagna qui è finito è andato a altre campagne per cercare lavoro. È una situazione a dir poco precaria quella del campo di San Ferdinando. Le tende del ministero e l'interno non bastano ad accogliere tutti, così ci si arrangia come si può, costruendo ripari con cartone, legno e pure lastre di Eternit. Si vive ammassati, con le tensioni che ne seguono è un degrado che non aiuta. La prefettura di Reggio Calabria da mesi ha il lavoro per trovare una soluzione alternativa, ma il come, il dove, il quando non sono ancora chiari. Intanto si resta qui, con quello che ne consegue, e per stavolta è andata bene. Parrocchie aperte sul fronte dell'accoglienza. Sono 123 i migranti richiedenti asilo e protetti internazionali che sono stati ospitati in 40 parrocchie e istituti religiosi di Roma. Lo si evince dal dossier informativo Caritas dei progetti di accoglienza della Chiesa di Roma nell'ambito del Giubileo della Misericordia. 57 i migranti accolti nel programma di prima accoglienza realizzato dalla Caritas di Ocesana in collaborazione con la prefettura. 66 in seconda accoglienza con i programmi di inserimento socio-lavorativo. Migranti in fuga da terre logorate dai conflitti, come la Siria, dove le forze governative hanno conquistato Aleppo Est. Questa è una vittoria ma non significa la fine della guerra, dichiara il presidente Assad. E la Croce Rossa, dopo gli attacchi agli ospedali, porta in salvo oltre 100 feriti gravi. Come ci racconta Antonio Soviero. Erano da giorni intrappolati in un ex ospizio all'interno della città vecchia di Aleppo, ieri conquistata dalle forze fedeli al regime di Damasco. E da oggi 148 civili in gravi condizioni di salute, soprattutto anziani, sono stati trasferiti dai volontari della Croce Rossa nella parte ovest della città. Sono più di 100.000 le persone bloccate dal fuoco incrociato nei quartieri orientali sotto assedio. Cibo e medicine sono introvabili e non c'è un ospedale dove portare i feriti. Nelle ultime tre settimane l'avanzata delle truppe governative protette dai raid russi è proseguita senza sosta, come dimostra il colore rosso. Oggi l'esercito di Assad è fermo sulle posizioni di ieri, grazie a una tenace difesa dei ribelli, la cui sconfitta però si avvicina ogni giorno che passa. Il Reis sente il profumo della vittoria e torna a parlare. La conquista di Aleppo sarà una vittoria importante, ma la guerra finirà con la sconfitta di tutti i terroristi, afferma Assad, che dice no alla tregua umanitaria chiesta ieri dai ribelli. Dopo l'ennesimo faccia a faccia con il ministro degli esteri russo Lavrov, il segretario di Stato statunitense, Kerry, si dice fiducioso in un accordo per il cessate il fuoco. Bisogna però fare presto. Dall'inizio dell'offensiva di Aleppo sono stati uccisi 800 civili, di un'ottantina i bambini, mentre secondo l'Unicef in tutta la Siria sono mezzo milione, i piccoli a rischio vita. L'India una mese fa metteva al bando 23 miliardi di rupie in circolazione. La misura monetaria introdotta per colpire il sommerso, togliendo dal mercato i tagli di banconote più grandi, si è rivelata un pesante boomerang. E a pagare nella nazione più popolosa al mondo sono ancora una volta i più poveri. Per Luigi Vito. Gente in fila per giorni interi davanti alle banche e agli sportelli Bancomat. Milioni di poveri costretti alla fame. Centinaia di persone disperate, vittime del caldo, della stanchezza e dell'esaurimento nervoso. Qualcuno colpito da infarto, ci è stato persino un suicida. India nel caos, dopo il provvedimento del primo ministro Modi, con cui da un giorno all'altro ha dichiarato fuori corso tutte le banconote da 500 e 1000 rupie, sostituendole con nuovi biglietti del valore di 2000 rupie. L'obiettivo era quello di colpire i falsari, i corrotti e gli evasori. Chi non aveva mai dichiarato la propria ricchezza sarebbe stato costretto a venire allo scoperto, recandosi in banca per non perdere il suo patrimonio. Ma l'espediente del Premier si è rivelato un fallimento. A pagarne le spese sono state le classi più disagiate, specialmente nelle zone rurali, contadini ed operai che non posseggono carte di credito ed app legate ai conti correnti con cui fare acquisti di ogni genere. Possedendo solo contanti, magari proprio quelle banconote dichiarate illegali, per loro è stata una corsa contro il tempo, cercando di cambiarle con quelle nuove da 2000 rupie. Ognuno in difficoltà perché non ci sono soldi nelle nostre tasche. Per stare in fila non vado a lavorare, non guadagno nulla, racconta Subhash Kumar, residente dei Ghaziabad. Un giorno si mangia e l'indomani si patisce la fame. Sono in fila da luna di questa notte, ancora non è arrivato il mio turno per cambiare i soldi, dice questa donna. Dobbiamo lasciare tutto ed essere qui 24 ore su 24, io sto solo lottando per avere il mio denaro. Per gli oppositori del governo e per gli economisti, la mossa del governo non è granché efficace, poiché la moneta costituisce solo una piccola parte del reddito sommerso. I disagi finora hanno superato di gran lunga i vantaggi degli obiettivi anticorruzione. E voltiamo pagina, torniamo in Europa. Per 40 anni è stato l'uomo più vicino a San Giovanni Paolo II. Con la nomina di oggi del suo successore, il cardinale Zivic, lascia la guida dell'Arcidiocesi di Cracovia, che pochi mesi fa aveva accolto i milioni di giovani nell'ultima giornata mondiale della gioventù. Questa sera con Cristiana Caricato vogliamo ricordare la figura dello storico segretario di Carol Voitila. Nelle foto in bianco e nero e nei filmati d'epoca è sempre un passo indietro accanto all'uomo che domina la scena. Il destino di Stanislao Zivic è stato quello di vivere nell'ombra, testimone della vita di un altro. Comprensibile se il personaggio in questione si chiama Carol Voitila, primo papa polacco, proclamato santo a tempo di record, grazie anche al pressing del suo più fedele collaboratore, fattosi interprete del desiderio di un intero popolo e di tutta la Chiesa. Non solo segretario per 40 anni, ma anche figlio di Scepolo, cronista e cultore di Voitila. Il merito è forse anche il limite del pastore Zivic, portato sempre a spostare l'attenzione sulla grandezza indiscussa di Giovanni Paolo II, a perpetrarne la memoria facendosi unico custode della sua preziosa e complessa eredità. Lo si intravede giovanissimo accompagnare l'allora cardinale di Cracovia all'ingresso del conclave da cui uscirà papa. 27 anni dopo sarà proprio il fido segretario a succedergli sulla cattedra di San Stanislao, portando in Polonia il bagaglio di ricordi, scritti e segreti di un pontificato tra i più straordinari della storia. Nei suoi 11 anni d'arcivescovo ha accolto due pontefici e rivelato attraverso due libri e numerose interviste frammenti inediti, retroscena, schegge dell'esistenza di Voitivo a sfuggite alla cronaca. Lui, sfiorato dal mistero, ha continuato a raccontare la vita passata accanto al gigante Giovanni Paolo II, influenzando anche la vita della Polonia e della Chiesa, forte di un'autorevolezza costruita con decenni di fedele servizio ad un santo. Delle origini contadine ha mantenuto sempre tratti semplici, l'austerità e il rispetto e una certa riservatezza, violata sempre e solo per narrare il pontificato che ha attraversato mezzo secolo, cinque continenti e gran parte della storia mondiale. Nei momenti drammatici, come in quelli trionfali, Don Sanislao era lì e il suo sguardo ha restituito anche le ragioni, le scelte, gli umori, le nostalgie e le grandi intuizioni di Voitiva. Unica in subordinazione, la decisione di pubblicare le carte che Giovanni Paolo II aveva chiesto di bruciare. Indimenticabile il momento in cui pose il velo di seta bianco sul volto del pontefice scomparso, l'ultimo atto di un uomo fedele. E si è concluso dopo circa 30 minuti il colloquio al Quirinale fra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Senato Pietro Grasso. Lo vedete in queste immagini che ha lasciato lo studio alla vetrata del Quirinale senza fare dichiarazioni. A colloquio da Mattarella c'è ora la Presidente della Camera Laura Boldrini arrivata al Colle in anticipo. E vi lascio ora al post del TG2000 con la storia di Andrea Pio un bambino di sei anni che vive nella terra dei fuochi in Campania affetto da una malattia così rara che i medici all'inizio l'hanno chiamata con il suo nome. Sicura Firenze e il suo papà è alla ricerca di un lavoro nel capoluogo toscano per stargli vicino. Noi torniamo alle 20.30 con i nuovi aggiornamenti del TG2000. Grazie per averci seguito. A dopo.